Gli artigiani dell'intera provincia sono scesi in piazza di fronte alla sede accendata della Crias in Corsi Italia a Catania per dire no alla cancellazione della Crias, la Cassa regionale per il credo e le imprese artigiane e per chiedere misure specifiche attra stimolare concretamente la rinascita del comparto artigiani. C'erano anche i rappresentanti dell'Unione Artigiani a Cese. La Crias non è un ente inutile, hanno spiegato gli artigiani. Non è affatto vero che cose la Cassa ricadono sul bilancio della regione poiché le spese sono pagate grazie agli interessi applicati ai prestiti che la Crias concede da sempre agli artigiani. Ciò vale anche per i modesti monumenti ai consiglieri di amministrazione. Da parte della nostra associazione, inoltre, gli eventuali rappresentanti insieme al Consiglio di amministrazione si dicono già disponibili a lavorare a costo a zero, affermano ancora gli artigiani. Cancellare questa storia significherebbe consigliare agli artigiani le mani degli strozzini una volta per tutte.